Ciao a tutti, siamo alle Bike Kingdom di Coira, io sono Axel e due è Oscar, adesso vi faremo vedere un po' di giri qua e basta. Ok, allora partiamo. Oscar adesso è un po' lento perché qualche giorno fa ha fatto un crash alle Enziride e mi dico male il collo e la schiena. Qua c'è il primo saltino, una hip. E qua c'è il drop o lo step down, io faccio lo step down. Oscar mi ha fregato, mi ha fatto risiedere su per fare lo step down, perché sennò mi sarei saltato addosso. Vai Oscar! Qua c'è questo panettone con l'atterraggio in flat. E qua box di legno. E' molto sassoso qua Coira, si rischia di bucare. Qua c'è la linea grande. Vai vai. Qui mi gioca un piccolo doppiettino per salire su. Mega parabolca di legno. Step down, step down, speed jump e poi salta dalla dirt. Molto bella questa linea. Grande Oscar! Allora, adesso seguo io l'Axel perché devo, per la velocità del drop qua, che non me la ricordo più. E quindi... Sì, lo seguiamo. Via. Oh shit! Mega inchiodata sul... sul drop. Allora, adesso seguo Axel su questo shark fin drop e faccio uno speed check per il salto che c'è là. Vai Axel. Allora Oscar, come ti sembrava il salto? Lo shark fin? È bello. È facile quello. Quello dopo? Lo fai dopo? Eh dopo sì. Dopo mangiato. Grande. Ok, proseguiamo per la nera. Qua mi sembra che ci sia un pezzo abbastanza tecnico e sassoso. Vediamo come c'è la cava il nostro Oscar. Qua si deve fare attenzione a non pizzicare e bucare perché tra l'altro in questa settimana Lens Ride abbiamo bucato quattro volte in quattro giorni praticamente. Allora, adesso lasciamo un po' un po' un po' un po' un po' un po'. Un po' questo panorama e andiamo sulla nera, quella là. E seguo Axel per questi due salti. Vai. Vai. Ah, qui c'è una hip, se non mi ricordo male. Ecco. qua. Ok, ovviamente non l'ho fatta. Ah, qui c'è un pezzettino scassato. qui c'è un pezzo. Qui c'è un pezzo. Qui c'è un pezzo di caldo. E' arrivato un po' corto sulla hip, ho visto? E non l'ho fatta. Ok, adesso andiamo che con l'anti c'è un truppettino. Un altro axel Mi fermo a guardarlo Ci fermiamo per terra Vediamo Non sia da prendere abbastanza fermi Poi c'è quello Quello speed jump là Che parla dentro con la curva Andiamo a farlo Adesso facciamo questo drop To speed jump Nelle radici Più che nelle brake bounce Più che nelle radici Non la conosco questa pista Per quello che la doppiano mi dispiace Oh scassadino C'è una rete intermedia Ora andiamo giù da basso O risaliamo axel No facciamo il pezzo basso Che a me piace di più Tra l'altro io un po' di Torcicollo L'altro giorno L'altro giorno quando sono Corso sul big day Quello grande Perché c'era vento Prima me l'avevo già fatto Però sono attratto corto E va male il collo Infatti vado un po' più grande Sì a me Qui c'è un wolverine Dove si cadi Muori praticamente Cioè muori Ok Oscar Te la senti di fare la nera O di fare la blu? Eh la nera Se no la dovevo pagliarci di nuovo Eh è vero Vai andiamo Vai Sono un po' distante perché C'è la polvere Ma Ecco Il corpo Oh shit Queste curve qua Sono mega ripidi Più di brake bounce Sotto Poi c'è questo Poi c'è questo Saltillo C'è questo Palettone Più meno Poi ancora un altro palettone Sharkfinizala Altro Sharkfin Questo cano si prende perché Devi curare tantissimo destra Allora Ti vedo un po' lentino Cosa succede? Eh ho il torcicollo Eh Vai continuiamo per questa jump line Adesso prendo io la GoPro Perché Oscar è un po' lento Se no mi inquadra Vai andiamo Vai vai do primo ai Vai vai No Non l'ho visto O E' un po' lento 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 Eh ho visto E' Oscar qua Mi sa che ci tocca fare la blu Cosa dici? E adesso si perché Eh purtroppo Daniel là fa un po' schifo Eh si Se no si deve scendere per la strada Poi qua ci sono queste curve Si dai Sì sono divertenti Divertentissime Vai, mandali tutte C'è la mia bici intanto che si sta smontando praticamente D'altronde da un anno e mezzo Manda lo step up C'è un step up un po' grande che Oscar non ha ancora fatto Dopo questa curva Eccolo Step down di legno Niente abbiamo perso Oscar Ci fremo un po' perché c'è il salto col mulch E Oscar che trick vuoi fare oggi? Ma put can can ma cosa se lo faccio oggi? Non sai se lo fai oggi? Magari ha l'inzer ride Ha l'inzer ride ok Ok Adorosca ti dico per questo salto Dai circa una pedalata Poi fai tu Tu pesi un po' di meno quindi Un po' di più Pesi un po' di più No di meno Devi pedalare un po' di più Vai Oh lunghissimo Come vedete qua il mulch Praticamente non c'è Guardate Un po' si però Ti fai male a cadere qua comunque Allora io e Oscar abbiamo deciso che stiamo un po' qua a fare un po' di trick Poi forse faccio anche un piccolo banger Ma partiamo con un suicide no ender Allora adesso farò Proverò a fare un backflip L'ho già fatto sul duro alivigno Però ho il salto più grande di questo Quindi qua dovrò tirare un po' di più E niente Speriamo di farcela Allora Oscar mi sta tirando su un po' di mulch Trucciolato Almeno la mia caduta sarà più morbida Sempre se cado Grazie mille Oscar per salvarmi la vita Tu perché mi ha obbligato Eh sì sì Ok ci siamo Devo dire che con un po' di ansia Perché l'ultima volta che l'ho provato Ci ho messo tre tentativi E la prima volta mi sono fatto male alla schiena E sono stato fermo per un po' di giorni Però dai Per fortuna non mi sono fatto niente Ok allora tutto bene Io non mi sono fatto niente Nemmeno la bici si è soffrata un po' il manubrio Adesso la metto a posto E lo riproviamo Forse veramente non avrò più figli Ok allora L'unico problema è che sono un po' lento Quindi a terra corto Adesso avrò qualche pesata in più In flat Così arriva giusto Ok Oscar Si Era sempre corto Però l'ho chiuso Allora Oscar Ha detto che vuole provare one foot can Vediamo cosa combina Vai Oscar Ok Quarto tentativo per Oscar Tra l'altro mi ha detto che non l'ha mai provato sull'airbag prima Quindi coraggioso Vai Quasi quasi Comincia ad esserci Allora dopo questa session produttiva Continuiamo giù per il sentiero Axel ha fatto flip E io ho fatto per la prima volta one foot can can E' la prima volta che l'ho provato E l'ho fatto abbastanza bene Dai Così c'è Sì sì è stato bello Questa è la cabina Stiamo andando a mangiare Oscar il comfort qua com'è? Eh distruttivo Eh Che ore sono? Le tre quasi E stiamo andando a mangiare Perché qua si fa colazione a mezzogiorno Quale razza da mangiare? Panino con Puggetto e formaggio Ok Da mia nonna Ok anche io Anch'io